attenzione perché lo sbilanciamento è avvenuto buongiorno a tutti andiamo a vedere il nostro bitcoin cosa ci va a combinare ci eravamo lasciati l'ultima volta dove vi avevo detto guardate con queste frecce vi avevo lasciato queste frecce rosa qui dove vi avevo detto guardate che questa zona qui questa zona di demand è probabile che la vada a sbilanciare vi ricordate che vi avevo spiegato perché perché qui ci sono i contratti long aperti ok in queste zone dove vedete no questa queste qui questa zona qui questa zona qui vi avevo detto guardate che la va a sbilanciare molto probabilmente cosa ha fatto l'ha fatto ha sbilanciato questa zona eccolo guardate sbilanciamento scusate qui ho combinato un macello cosa va a fare sbilanciamento della zona dei 18.400 ha fatto una piccola rottura quindi tutti gli ordini a breakout posizione short che erano che comunque al di fuori del della strategia di dove mettono lo stop loss i trader che entrano in questa maniera però la situazione è questa ovvero che cosa fa il trader prende come minimo di riferimento il minimo che c'era 18.350 18.300 più o meno cosa fanno qui entrano a breakout di questa zona per cercare lo short e il prezzo cosa fa innesca questi ordini perché questi ordini guardate con pochissimo ma li va ad innescare con pochissimi pips ma li va ad innescare poi va dalla direzione opposta qui un trader che magari aveva lo stop loss ecco fino a ecco un qualcosa del genere ovviamente li ha fatti saltare tutti con il giro di poche ore ok questo è quello che stava che sta succedendo spessissimo e che vi avevo detto guardate probabilmente lo va a fare anche questa volta qui ci siamo ritrovati che lo scenario è esattamente quello di cui vi parlavo ovvero andiamo a sbilanciare la zona e poi con forza e velocità se non l'avete visto guardate l'ultimo video dove lo vado a spiegare che mi aspettavo questo movimento e ci siamo di nuovo ora abbiamo trovato resistenza di nuovo su questa liquidità dinamica ok quindi vuol dire che qui gli short stanno continuando ad entrare le posizioni short stanno entrando in questa in questo modo ok quindi ripeto sempre non so dove andranno a mettere non so la strategia di trading di tutti i trader che entreranno qui ma in sostanza cercano dei movimenti del genere ok movimenti che non è detto che ovviamente il prezzo farà perché perché domani c'è un evento importante c'è la riunione del fio del form si e quindi io direi di aspettare domani perché magari sulla scia proprio della notizia di domani potremmo assistere a un eventuale scenario bullish attenzione perché dico bullish dico bullish perché perché se dovessimo rompere guardate ora ci troviamo in questa zona vi ricordate in questa zona di rotazione del prezzo che avevo individuato con questo rettangolo bianco quindi parliamo 19.400 19.250 ma sono zone che lasciano il tempo che trovano comunque dovete capire il perché diventa una zona di rotazione cioè l'importante è che capite il perché 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 guardate il prezzo quante volte in questa zona questa già tre volte quattro volte cinque volte sei volte sette volte dove siamo ora ci va a rimbalzare quindi è una zona di rotazione del prezzo è una zona dove qui ci sono delle aperture di contratti ok che siano short long ma comunque qui è un prezzo dove è molto è un prezzo sensibile ok quindi dovete capire questo cioè l'importante è che capite come si muove il prezzo su questa zona di rotazione potrebbe con molta forza con molta forza ripeto magari magari sulla scia del form si fare un breakout di questa liquidità dinamica questo breakout di quelli della liquidità dinamica attenzione perché potrebbe essere molto impulsivo e vi spiego perché perché qui ovviamente come ci sono gli short ci sono anche le posizioni long di chi lavora breakout di questa liquidità dinamica perché che cosa fa mettono un ordine qui che vada ad innescarsi quando il prezzo va a rompere questa liquidità dinamica lo stop loss lo mettono magari sotto questo minimo di riferimento questo minimo questo minimo non lo so perché ovviamente varia a secondo della strategia e potrebbe essere molto impulsivo perché qui si aprono contratti long e si chiudono tutti gli short che magari sono short a break even quindi che comunque non vanno in perdita ma comunque sono ordini ok che si chiudono la dovete vedere come ordini che si chiudono non tanto chi guadagna o chi perde e quindi qui mi aspetto una liquidità forte per gli amanti dei grafici quindi per gli amanti di wikoff per gli amanti del trading in generale no guardate che questo scenario qui che io avevo visto come uno scenario di accumulo qualche settimana giorni fa questo qui sarebbe esattamente il jump the creek quindi se io adesso trovo lo strumento pennello cioè il jump the creek della della fase di accumulo di wikoff non lo sapete andatelo a vedere ho fatto anche un video insomma ce ne sono tantissime di fonti quindi io mi aspetto un impulsività long ok e che potrebbe andare a proiettarci anche in zone ben più alte allora premetto questa potrebbe essere una soluzione ma ripeto dato che domani esce un dato fondamentale un dato dove probabilmente e statisticamente il prezzo va andrà a sentire di questa cosa non è detto che lo scenario si verifichi long perché potrebbe esserci anche uno scenario short dove va sia a fare il breakout ok inizia a fare diciamo un temporane profit per tutti quelli che entrano long e poi ti tira un qualcosa del genere perché bitcoin lo fa ok perché questo perché va a diciamo a far saltare tutte le posizioni dei long ok poi magari riparte con calma qui addirittura potrebbe fare un po di lateralizzazione no e poi magari se ne va questi sono scenari assolutamente possibili quindi mi raccomando ma dico assolutamente possibili perché perché ultimamente questi scenari qui si stanno modificando ok io da poco vi ho fatto vedere la wolf vi ho fatto vedere delle strategie di trading che piano piano si stanno modificando perché tutti i trader che usano quelle strategie poi vanno a guadagnare e non è questo il mercato perché poi il mercato si adegua a queste a questi diciamo scenari quindi potrebbe essere anche tranquillamente io adesso ve li faccio due due scenari ma proprio così nel breve potrebbe essere scenario di breakout e di riassorbimento veloce molto forte per quanto riguarda uno scenario short questo lo facciamo rosso e lo facciamo così oppure oppure uno scenario ripeto che magari andiamo a a fare un qualcosa del genere poi saliamo con forza per uno scenario bullish adesso ve li disegno così e poi voi ve li andate insieme a me perché poi questi giorni vi farò dei video comunque che supporteranno questi due scenari o meno poi ovviamente io ne ho fatti due ma aspettatevi lo scenario c che sarebbe quello che io non ho messo perché io ripeto non sono un mago io faccio degli scenari dopo qui questo scenario l'abbiamo preso bene questo scenario di sbilanciamento per il momento l'abbiamo preso bene sì però sono statistiche io non faccio il mago ripeto non non ho la verità assoluta io vi dico come io io personalmente analizzo il mercato può star bene può non star bene potete darmi del del sempliciotto no per queste per queste analisi però in sostanza ultimamente ci stiamo un po andando vicino su quello che succede quindi mi raccomando teniamo sotto controllo quello che sta facendo il prezzo io per il momento vi lascio qui perché altrimenti vi annoio vi ringrazio se non l'avete fatto iscrivetevi sia qui sia sul canale telegram perché poi le notizie ne do molte questi giorni ripeto la stagione diciamo bitcoin è ricominciata dopo la pausa estiva ci vediamo presto grazie a tutti ciao